se ti piace youtube adorerai lifestyle allora vediamoci il pinpointer ah che stupido non mi sono scordato non c'è l'idea, non c'è l'idea, non c'è l'idea questo è il pinpointer eccolo qua il pinpointer che bella, ahia dove cosa stavo? vediamo un po' ridice se è il mio netto vediamo un po' guarda 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 andiamo avanti andiamo qua andiamo qua ok andiamo qua guarda guarda che cosa sta? qua ah questo qua ok niente carta pure questo vediamo che marca è una bottiglia vecchia si capisce a posto possiamo andare avanti che schifo che cosa che schifo è che schifezza è chiudiamo è curioso voglio capire che cavolo è ma continuo questo è tutto che cavolo è un telo enorme vediamo qua ci stava un pezzo di ferro eccolo qua vediamo da qua è una giacca c'è questo bottone voglio capire che cosa ha sentito guarda chissà che cosa che cosa che cosa se lo sapete scrivetelo nei commenti andiamo qua non vieniamo a capire che cavolo ci sta qua sotto no sono un curioso fanzi vedi sono arrivato in un buon punto ecco numero numero e poi lo sapevo lo sapevo che era un buon punto bella quella chissà se è una giacca una giacca militare eh no queste le rivolte no aiaiaia bellissimo bello sono contento ok mi ha trovato il segnale andiamo abbastanza proprio mi sa no sta di qua eccola qua qua ok che cavolo è questo si eccola qua che cavolo da ci sono le scritte va vediamo un po' puliamo contiene contiene di paramio composizione ogni compressa che diavolo va eccolo qua Tullio tullio d'episcopo tullio locatelli padova fabbrica di prodotti biochimici qui preparato il fominico allora ragazzi poi vado a vedere che cosa è questo un contenitore di se lo conoscete fatemi sapere è un contenitore di pasticche di para amnio contro nelle infezioni da stretto cocco penso che sia vecchiotto qua abbiamo trovato il fondo di una cartuccia questo dovrebbe essere il fondo di una cartuccia no? un bottone no però io penso un fondo di di non lo so raga ma dopo questo è il fondo di cartuccia qua un altro proiettile questo è un bottone vediamo se lo riusciamo a pulire fino a un po' ci sono scritte qualcosa non ci sta niente bello dopo gli diamo una pulita comunque se è già così sapete dirmi a chi possa appartenere se è una divisa o non sono perso così fatemi sapere bello 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 qualcuno sa dirmi qua ci sta la scritta vediamo vediamo un po' qua ci sta leggiamo non si legge una mazza bello 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 che cos'è? andiamo avanti bel posto raga bel posticino sono molto entusiasta bello bello felice felice ma lo sapevo se no lo sapevo e l'avevo immaginato nel senso che chiudiamo ok la superficie senti che bel suono qua? qua? sopra la mamma mi sono scelta fatemi bello il bottone ora questo è un bel posto bello bello felice 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 andiamo avanti andiamoci agli asparagini che troviamo quindi facciamo metal video e asparagi meglio di questo che volete meglio di questo che volete e avanti preso tutto preso con un altro si stendono i piedi scusate qua ce n'è un altro qua, qua, qua qua, qui qua, qui e qua dentro oh bello oddio oddio che bomba ho postato a per me la casa ciao 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 siamo a trovare le monetine 200 lire del 1980 yeah perfetto bella giornata oggi bella giornata un tombino che cos'è si un tombino ragazzi io ma non ho gli attrezzi per aprire qualcuno mi saprebbe indicare che cavolo è questo se un tombino mi sembra mi sembra strano che sia un tombino qua vediamo un po quando scende ecco qua ragazzi allora oggi abbiamo trovato queste cose questo questi questi questore da facciata della famiglia dei proiettili poi abbiamo trovato anche questo penso che facciano parte della famiglia dei proiettili però questo che non so che di che pistola possa essere non lo so nel caso fatemelo sapere sempre attraverso i commenti mi date anche una mano poi anche questo io penso che questo pure faccia parte proiettile idem questo poi abbiamo le 200 lire qua abbiamo diversi bottoni questi questi questo questo faceva parte della casacca trovata per un l'ho cacciato dove sono schegge questo dibutto avrì che questi quadri vestiti tappi di bottiglie belli questi voglio vedere a che anno di che anno sono e infine questo io mola devo pulire voglio poi la faccio controllare per vedere se non ho cacciato non ho cacciato se è oro non è oro perché guarda aspetta ma accendo il flash vi faccio vedere guardate come luccica non si vede probabilmente dalla copro comunque fantastico bello 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 niente oggi è stata una giornata molto interessante quindi ragazzi fatemi sapere attraverso i commenti se riconoscete questi oggetti sapete darmi delle indicazioni e mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ciao ragazzuoli no ciao ragazzuoli non lo posso dire perché il mio amico mi ha detto che è de modè quindi vi saluto così ciao